Riscoprire e valorizzare con consapevolezza il patrimonio storico del passato, fortemente e decisamente legato alla produzione della seta. E' questo l'obiettivo che si è posto l'evento Catanzaro, il sogno di una città che vive, curato dall'Associazione Cultura Attiva, con la collaborazione della cooperativa Nido di Seta. E' dell'Associazione Confine Incerto che vuole rappresentare un momento di confronto su possibili strategie di sviluppo del tessuto cittadino e del suo territorio, partendo in primis dal recupero della storia e delle tradizioni locali. Nelle corse di una conferenza stampa in comune sono stati anche resi noti i risultati del progetto didattico Baco da Seta, grazie al quale è stato possibile toccare con mano il fatto che la città di Catanzaro sa ancora affascinare i suoi visitatori. Il progetto didattico Baco da Seta ha previsto per il visitatore un'esperienza che lo ha coinvolto totalmente. Studenti ed insegnanti sono andati infatti alla scoperta dei quartieri più antichi della città, Grecia, Filanda, Piazza del Rosario, l'antica Giudecca, Largo Santa Chiara, con il racconto del loro antico legame con la nobile arte della seta, intrecciando alla narrazione una performance di teatro interattivo. Inoltre in conferenza stampa è stato rimarcato quanto sia grave e paradossale che la vecchia città della seta non si sia ancora dotata di un museo della seta. Che una città come Catanzaro non abbia un museo dedicato proprio alla seta, grave e paradossale? Certo, certo è grave, perché Catanzaro ha avuto nei secoli una vocazione alla distruzione delle tracce della sua storia. Quindi noi abbiamo portato avanti questo progetto Baco da seta, basato proprio sulla storia della seta, andando a ripercorrere i vicoli del centro storico, quindi i quartieri più antichi della città, i cui nomi sono legati ancora alla seta, quindi quartiere Filanda, Via Gelso Bianco, la Grecia, il Vico delle Onde, e quindi andando a riscoprire la storia di questi vicoli, di questi quartieri e raccontandoli ai ragazzi. Questo progetto è stata la nostra scommessa, perché in una città che non ha basato il suo sviluppo sulla storia, infatti non c'è neanche il museo della seta, quindi noi abbiamo voluto comunque basare un progetto su questa storia della seta e riprendere questa storia della seta. Il progetto ha funzionato perché ha affascinato i visitatori, perché abbiamo costruito una vera e propria esperienza. I visitatori non sono stati soltanto spettatori, ma sono stati coinvolti. Grazie a tutti.